vogliamo fare un esperimento che mi metti una base toons toons e Stefano ci improvvisa sopra col pianoforte vorrei vedere cosa verrebbe fuori una base di quelle tue, di quelle minchiate tue ma poi si mette le basi così? si ma lui lo sai, lui arrangia che altro poi se le rivende io vedo già Stefano Bollani Dance esce il cd e lo vende qua fuori all'autogrill allora sei pronto Guadino? dai sentiamo signori da una cacca di base che ha messo al petino ci ha fatto un capolavoro Stefano ma fai a caso o sai quello che stai facendo? faccio a caso signori è venuto un brano della Madonna so che lo sto facendo a caso è capito questo è importante c'è la consapevolezza del caso va para tanto claro